Basta che palle mamma mia che due Cioè fastidiosissime Queste intro di live con Poldo Che pensa di essere simpatico e invece è tutt'altro Tranne che simpatico Buonasera amici benvenuti in live Io sono Poldo sono le 20 E 36 Ho detto 36 sono pazzo Ciao il cugino di muri Grazie del quinto mese puoi cambiare nome Grazie però dell'abbonamento Ciao anche a Dale Punk grazie del diciannovesimo mese Ciao belli benvenuti in live Avete visto che è iniziato il Sub 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 Tambor Ho fatto la sub con le lettere Dell'alfabeto Non è manco settembre è inizia domani A quanto pare è iniziato il september È il 31 agosto è iniziato settembre che vi devo dire Vabbè sostanzialmente ci sono le sub In sconto quindi se volete Potete approfittare di settembre Con il vostro Con il vostro abbonamento In sconto avete visto Pazzesco Ciao Roberta grazie per i bit Albano sta sempre là dietro È bene è bene è bene Sta sta bene sta bene Oggi è settembre Sì è il settembre Tra l'altro fra 10 sub Compro una pizza a sedia Questa è una cosa molto importante da sapere Signori benvenuti in live Io sono Poldo Stasera Live è interessante Prima di iniziare Come avete passato la giornata Avete passato bene la giornata Avete fatto le vostre cose Io oggi ho lavorato un po' Ho dormito un poco Quando mi sono svegliato ho alzato le mani ad Alice Comunque Per finta Una routine Eh? Una routine insomma Normale E per il resto Niente Mi sono anche messo un po' a lavorare Per i prossimi video Che devono uscire E per il resto Che altre informazioni vi devo dare Prima di iniziare questa live serale Domani con la mia band Con Slugger Suoneremo a Milano Al Rock and Roll Nelle mie storie Trovate le info Per chi volesse venire E basta Non ho più nulla da dire Bevete Che è importantissimo Allora signori Stasera Formattino interessante Molto figo Molto interessante Ovvero dei tornei E voi dite Cosa sono dei tornei Banalmente Retrogrediamo Col content Più passa il tempo Più internet diventa figo Più Ho bisogno di un sito Come UU Fufu Che pronuncerò adesso E non pronuncerò mai più In vita mia Ovvero questo Che sostanzialmente Che cos'è È un preferiresti Ti mette davanti Due Due scelte E tu devi Sostanzialmente Dire quale Dire quale Quale preferisci Dei due E ho molte categorie Oggi Ne ho quattro Ho youtuber italiani I migliori film Di tutti i tempi Item del fast food E migliori canzoni Di tutti i tempi Dopodiché Ho creato Un mio Quiz Cioè quiz Torneo Ovvero I migliori video Del mio canale Che vi darò Verso la fine Della live Verso metà Della live E verso la fine Andremo a vedere Il 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 risultato Oddio potrei darlo In realtà Già No Lo diamo appena finisco Uno di questi qua Allora Signori Qua Decidete voi Signori Decidete voi Perché abbiamo Quattro categorie Ovvero Youtuber italiani Best movie of all time Fast food items E migliori canzoni Di tutti i tempi Quindi adesso faccio Un bel sondaggio Così scopriamo Scopriamo da quale partiamo Pa 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 Ok Destino sondaggio Dovrebbe essere questo Nuovo sondaggio Ok Da quale Partiamo Intanto Bentornato Tommaso Grazie per il Per Il Nono mese Uvufufu È un nome che mi terrorizza E mi incuriosisce Allo stesso tempo Sì io vorrei capire Perché Questo nome Ma non credo Che lo capirò mai Di sempre Migliori Canzoni Di sempre Oh ne abbiamo quattro Quindi partiamo Inizio sondaggio Scopriamo che cosa vota Il popolo Let's go Allora Intanto Grazie anche a God's Lethal Per il secondo mese Buonasera carissime Betty Per il secondo Bentornata È The Little Che ha sfruttato Il Subtember Per pagare la sub Meno Grande The Little Grazie di cuore per la sub Bello mio Punto esclamativo Telegram Per il gruppo Telegram Dei sub Ah Un nome che mi incuriosisce È Follettina Creation Perché è un nome così normale Bro Non trattare male Follettina Allora Direi che tutti vogliamo partire Da Youtuber Youtuber Italiano Ho scritto Youtuber Italia Sono pure stupido Poto mi ricordi mio zio Io devo smettere Di leggere la chat Veramente Devo smettere Di leggere la chat Vabbè Niente È finita male Grazie The Little Per le 5 Sub Regalate Così dal nulla Man Grazie di cuore Grazie del supporto Tra l'altro pure sulle sub Giftate ci sono gli sconti Mi pare Se è così Wow Grazie È bello mio Grazie di cuore Patato Davvero Grazie di cuore Per il Per il Per il supporto Man Davvero Grazie Grazie di cuore Per il supporto Mentre Si direi che possiamo partire Fatemi mettere la musica bassa Così non dovrebbe essere troppo alta Com'è di volume Penso vada bene Dai Allora Direi di partire da questo punto Youtuber italiani Vedete è molto semplice Daremo un parere Minchia Torneo di 64 Rispetto ai pool di candidati Ok Scegliamo questo Vedi già parte malissimo Si è buggato C'è un Un coso vuoto Ok Forse ho sbagliato qualcosa Round di 32 Ok dobbiamo fare Round di 32 Allora è molto semplice In realtà Ti mette davanti Due creator E tu devi scegliere Quali dei due preferisci Quindi lo faremo insieme E proveremo Ad avere una critica costruttiva Senza Ovviamente andare A intaccare Nessuno Ciao Stellan Grazie del Prime Carissimo Benvenuto Punta esclamadio Telegram Per il gruppo Telegram Allora a sinistra abbiamo Mattiz Di Ninna e Matti Quando ancora faceva Facevano I Come cazzo si chiama Cioè lui faceva gameplay Tipo Clash Royale O altro Tra i due Sai che forse direi Il giocherone Dai il giocherone Ovviamente giocherone Ovviamente giocherone Oh Edoardo fa cose Contro Youtuber che non conosco Quindi automaticamente Vince Edoardo fa cose Non ci sono Purtroppo Non possiamo dire nulla E anche qua Youtuber che non conosco E Two player one console C'è qualcuno A cui piace veramente Matti Eh credo solo perché Faccia parte di Youtube Kids Che ho odiato da molti Allora E Io direi Two player one console Solo perché non conosco Quella a sinistra Purtroppo Capitan Blazer Con una fotografia Uscita direttamente Dalla seconda Superiore Cioè la seconda media Altro che E Mike Shosha Sai che forse Dico Cap Allora Chiaramente Allora io conosco Cap Ma non conosco Mike Ironico E Ci ho parlato Varie volte Tra l'altro C'ho un Un bellissimo ricordo Di io a caso Che giro a Milano A cazzo di cane Che cammino Per le strade Non mi ricordo Dove stavo andando E ci sono due ragazzi Che mi fermano E mi fanno Oh bella Poldo Io mi giro E faccio ciao ragazzi E poi mi accorgo Che erano Cap E Kazu Era È stata un'esperienza Veramente Illuminante Quella sera Vabbè Dicevo Conosco Cap Quindi Automaticamente Mi avrebbe da dire lui Però forse Sui contenuti Mike È più storico Ho visto Sai che direi Mike Perché ho visto Più video di Mike Io ho guardato tutto Until Dawn Da Mike E di recente Tipo Qualche mese fa Avevo provato A guardare The Quarry Solo che poi Mi sono dimenticato Di finirlo Quindi Signori Io direi Mike Wasowski Vai Sì è tra gli youtuber Iconici Chiaramente DF contro Awed Ora io non voglio Essere cattivo Contro Awed Quindi Mi Sbilancerò Molto Sui DF Grazie The Little Per le tre sub Regalate Devo comprare Una pizza a sedia Devo comprare Devo comprare Una pizza a sedia Ah Stai live No Stai live Devo Devo chiamarlo Ok Devo Devo avvisarlo Ok E dicevo Grazie di cuore The Little Per le tre sub Regalate Ringraziate Per chi ha ottenuto La sub Ok E wait a moment Ragazzi Devo avvisare Sedia Del fatto Che siamo Che devo comprare Una pizza Ok Sedia Perfetto Ordine La pizza Peggiore Eh minchia Qua è dura Adesso Cioè Mò dobbiamo capire Quale pizza Vuole Cioè Qua è grave Ciao bro Come? Ti prego Non cliccare Il mio numero In live No Ti ringrazio Si vede solo Sedia E da quanto Stiamo parlando Tranquillo Tranquillo Va bene Allora bro Devo avvisarti Di una cosa Ho raggiunto Il sub goal E compro Una pizza Sedia Quindi Ti devo Comprare Una pizza Va bene Allora Partiamo dal Presupposto Che Io non so Se ti piaccia Funghi e cipolla Ma ti comprerò Quella No no Sto scherzando Dimmi quale pizza Vuoi Io L'ho vista Le patatine My man Si vede Che siamo Fratelli Cugini Di sangue Veramente Sempre Mr. Paddy Grande sedia Va bene Allora Domani sera Te la faccio A vedere ok Grazie Ciao bello A posto Risolto Con la pizza Grazie a tutti Per aver raggiunto Il sub goal Una pizza Per sedia Grazie ancora Delitto Va bene DF 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 Il canale Del ciaddone Contro i Pantellas Io non mi sarei Mai aspettato Di Scegliere I Pantellas Però Devo farlo Perché non conosco Il canale del ciaddone Chi è il ciaddone Questa è una bella domanda Non lo conosco Ma mi verrebbe Grazie boys per la pizza Di nulla My man Mi verrebbe da dire Il canale del ciaddone Solo per non scegliere I Pantellas Però non lo conosco E sarebbe scorretto Quindi devo dire I Pantellas Pazzox Verso Xuder Ma il Xuderone nazionale Ma per forza Devi votare Xuder Per forza Devi votare Xuder Cioè Non puoi dire nulla L'inventore Del codice sconto Xuderone Senza di lui Milioni di persone Sarebbero morte di fame Vai Xuder Lorenzist Contro Gabby 16bit Non mi ero mai reso conto Quanto l'immagine profilo Di Gabby Fosse fatta male A livello proprio Vedi c'hai contorni Fatti male Lorenzist Lorenzist Ho visto qualche video E' molto figo Alcuni concept L'editing E altro Però abbiamo davanti Due creator Principalmente per ragazzi Direi Gabby Perché Mi ha Mi ha accompagnato Nell'infanzia Direi Gabby Gabby per forza Jumpy deck Contro Ratorix Abbiamo da un lato Uno dei più importanti Canzonatori Dell'era moderna Con C'è sta Jumpy C'è sta Jumpy Giampiero Tecnologia Mentre a destra Abbiamo L'unico Vero e solo Vero e solo Vadim Vato X Regà Io devo votare Ratorix Non lo so Devo votare Ratorix Nonostante Ho conosciuto Entrambi Sono più affezionato Forse a Ratorix Niente da Ovviamente da togliere A Jumpy deck Se fosse stata Jumpy deck Contro i Pantellas Avrebbe vinto Jumpy deck Quindi devo votare Ratorix Ciao HD 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 F8 Grazie del Prime Come ti devo chiamare Tipo codice IBAN Grazie del Prime Bello mio Let's go Stepney Contro Pirlas TV No Pirlas V Non conosco Pirlas V Ma sembra un canale Di calcio A giudicare Dallo stemma Quindi dico Stepney Già mandato a Jumpy Aspettati una querela Eccala Guarda Poteva esserci pure Poldo a sinistra Poteva esserci pure Che ne so Favij Ogni creator Della madonna Lion Avrebbe vinto a priori Non lo so Qualsiasi Persona Io purtroppo Non conosco Martex E mi dispiace Che sta venendo eliminato Qua Ma fidati Martex Se al posto tuo C'era anche Yotobi Vinceva Lion Te lo assicuro Vinceva Lion Quindi Niente Ciao Vin Behemoth Grazie del Prime Bello E ciao Reggio Calabria Grazie dell'ottavo mese E ciao Gioanin Grazie del Prime Ciao belli Bentornati Montesca Madivo Telegram Per il gruppo Telegram Lion Cristo contro Murri Oh Stai da un lato Abbiamo Chi viene bestemmiato Dall'altro Abbiamo chi lo bestemmia Eh io direi Cristo Solo perché Lo conosco di più Lo conosco molto di più Murri non l'ho mai avuto il piacere di conoscere Non è tanto L'ho seguito troppo Quindi direi Cristo My preferences Matt Ora che ci penso Io non ci sono qui Perché se c'è Cristo Ci sono io C'è Cristo Jake contro Anima E devo votare Anima Perché non conosco Quella sinistra No io invece conosco Quella sinistra È l'amico di Cristo Vero? È l'amico di Cristo Mr. Jake Sì è l'amico di Cristo Ok Eh oddio Perché Lui l'ho conosciuto Solo a voce Ci ho parlato una volta Anima Qualche video vecchio L'ho guardato Sai che non lo so Cioè qua sono veramente Indeciso Cioè Alla fine Anima Forse non lo sceglierei Per il tracollo Che ha avuto Dai All'abbona Mr. Jake Solo perché Anima Ha avuto un downfall Pazzesco In quest'ultimo periodo Non si può No questa no Questa non si può fare 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 E mo chi voto Ciccio Surri Oh mio dio Qua siamo Siamo davanti A una A una scelta Cioè questo è il big match Della serata Probabilmente Surri o Ciccio Gamer È illegale Oh mio dio Allora Ho visto più video di Surri In vita mia Perché ho visto più Minecraft Non ho seguito tutta l'era Né di Fortnite Né di Clash Royale Di Ciccio Gamer Però ho visto sia Assassin's Creed Che quando uscì Until Dawn Vedi due episodi Quindi forse Ho visto più video di Surri Però Surri ha avuto anche Un'evoluzione pazzesca Nel tempo Ciccio bene o male Sì l'ha avuta Però è sempre Non lo so Direi Surri Solo perché È legato anche Al mio meme Del Hai mai segnato quest'uomo Quindi Surri Mi dispiace Ciccio Mi dispiace davvero Di qua D'insieme Contro Surmacchio Io Non so chi è Surmacchio Quindi devo votare D'insieme Non vale Voto Surmacchio Anche se non lo conosco Lo posso fare Dai No però Sarebbe scorretto Cioè devo votare Una persona che non conosco Per non votare I me contro te Surmacchio è un food vlogger Ah quindi già A priori va molto meglio Di Ah quindi tipo Pratt E Franchino il criminale Non lo so ragazzi È perché sarebbe Scorretto votare Un creator Che non conosco Adesso va È l'editor Di TR Ah E allora Vale Se conosco L'editor di TR No non conosco L'editor di TR Sto tentando di giustificarmi Purtroppo Non posso votare Chi non conosco Quindi devo votare Di insieme Che fastidio Cristo Ah ok Questo adesso è Il Lo showdown Ok Siamo alla parte 2 In cui adesso Devo votare Tra di loro Tutti i creator Che ho votato Quindi io non c'ero Io non c'ero Dannazione Cristo O di insieme Cristo Vabbè Ovvio Ratorix O Mike Stesso discorso Di prima Mike Grande Però Rat Devo votare Rat Sorry Sorry Ivan Tellas Contro Giocherigno Easy Giocherigno Stiamo facendo fuori Tutti quelli Di cui non mi interessa Stepney Contro I DF Mi dispiace per Stepney Edoardo fa La mia infanzia Contro una persona Molto brava Che conosco E che stimo E che guardo Tutti i video Edo Niente da fare Devo dire Ebudo Ciao Ho già ringraziato tutti Non ha senso Surry Contro Mr. Jake E qua direi che Surry purtroppo Va al podio Vai Surry No 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 Questa non vale Questa non vale Io ho detto letteralmente Prima ci poteva essere Pure io Tobi Avrei votato Lion E adesso che li ho davanti Non so chi Dei due votare Non so chi Dei due votare Se da un lato Abbiamo il Chad L'essere che ha capito L'universo Che ha capito Come funzionano Le leggi Che regolano L'universo Dall'altro abbiamo Un grande creator Di cui non mi perdo Un singolo video E che è veramente Un grande storyteller Che c'è da sempre Eh raga Devo votare Io Tobi Devo votare Io Tobi Mi dispiace Scusa Lion Scusa Lion Vabbè Siderone Qua non c'è Nemmeno da 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 parlare Ecco Qua lo showdown perfetto Un mio amico Io Tobi Edo Ti voglio un botto bene Però devo votare Io Tobi Ti voglio un botto bene Però Credo che Sia più giusto Votare Io Tobi Credo sia più giusto Me la sento così Me la sento così Me la sento così Per quanto è Edo sia Un ottimo creator Cristo contro Xuderone Eh qua Toccavo da Cristo Mi dispiace per Xuderone DF contro Giocherigno Ciao Giocherigno Mi dispiace Ratorix contro Surry Ecco Qua È grave la situazione Qua è molto grave La situazione Ratorix contro Surry Poldo non sbagliare Metà sono Surry Metà sono Ratorix Sai che forse metterei fuori Ratorix Perché come dicevo Quello che ho seguito di più Nella mia vita È stato Surry Ho visto un botto Di episodi di Minecraft Mi accompagna Quando sono piccolo Ratorix è un mio amico Ho visto un sacco di video Mi sta troppo simpatico Però forse È più È più corretto Far passare Surry Il meme O il memato Eh Tocca fa passare Surry Tocca fa passare Surry Cristo contro i DF Cristo Ciao No Adesso Non vale Così Così Non vale Eh Yotobi Yotobi Surry ha fatto fuori Ratorix E adesso Yotobi fa fuori Surry E anche qua Vabbè Siamo d'accordo Che doveva arrivare Yotobi Alla fine del mio Torneo Oh Non ho mai visto Cosa succede alla fine Perfetto Ah qua ti dice tutti Godo Ti dice tutti Ah ce n'è 100 Ma allora perché ne ho fatti Così pochi Goddamn Sono io Winrate 65% Quindi vuol dire che il 40% delle volte è perdo Goddamn Ma è anche molto alto Cazzo È altissimo Jumpy deck Ma c'è pure sedia È a metà Wow Uno dei chi è quello più alto Scottex sta a 61% Io sto a 65 Sto a 65% io Goddamn Ma sai che io sono uno dei più alti Cioè DF 71 Stepney 70 Ciccio 73 FabiJ 73 Yotobi davvero 58 Cioè Yotobi è più basso di me Ma non ha senso questa cosa Non ha senso questa cosa Surry è più alto di me Ok ci sta Boh Cioè io e Chitale abbiamo lo stesso win rate Praticamente Ma non ha senso Ma non ha senso Ma non ha assolutamente senso questa cosa Non c'è Zeb che è stronzata No infatti qua Boh c'è da sindacare secondo me Ciao Nard on Fire Grazie del Prime Bello Allora visto che si parla di video Direi che è il momento di Dropparvi il mio Lo facciamo insieme E poi più tardi capiamo Allora ne ho fatto uno anch'io Ho chiamato Migliori video del canale Poldo Ho raggruppato quelli che secondo me Sono i video più importanti del canale Io adesso vi mando il link Voi dovete giocarlo Così potete E piano piano Ah molti già l'han giocato Vedo Ok Alcuni l'han giocato Così potete Potete anche voi Votare quali sono i vostri video preferiti Del mio canale E più avanti Guardiamo i risultati Ok Quindi slash pin Tecnicamente così Dovrebbe farvelo vedere Anzi facciamo slash pin Partecipa al Torneo Ok Molto meglio L'ho pinnato ragazzi Basta Lo trovate pinnato qui in chat Oppure ve lo mando qua e basta Pa 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 Mi confermate che vi funziona Vero? Se ve lo cliccate E fate play Vi funziona Perfetto Ok Potete anche lasciare i commenti Bravi ragazzi Ah Poi non ti rendi conto di quello che hai E che sei pure il tuo fan Sai che Forse c'è un impostore Che mi impedisce questa cosa Mamma mia Allora signori Come andiamo avanti Ora che Non funziona 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 Ok perfetto Funziona L'importante è questo E allora Adesso abbiamo Migliori film di tutti i tempi Fast food items Le migliori canzoni di tutti i tempi Sai che io voglio fare i film Voglio fare i film Poi i fast food E poi le canzoni Dai facciamo i film Godo voglio fare i film Voglio fare i film Turno di 128 No Facciamo sempre turno di 32 Per carità di Dio Oh Fight Club Contro OS 117 Fight Club Questa è molto facile Purtroppo Questo è molto molto facile Purtroppo Il Fight Club Cazzo Ma perché in francese 1001 Pattes Che è a Bugs Life Sta scritto così Contro Indiana Jones E i predatori dell'arca Credo sia francese Che ha fatto questo sondaggio Allora A sinistra abbiamo Uno dei migliori cartoni Della Walt Disney Picture Con la Pixar Che io reputo fondamentale Per l'animazione E considero uno dei miei film preferiti D'animazione Sia per la comicità Che per le tematiche Mentre a destra Abbiamo un film Che è parte della cultura pop Al 100% Ovvero Indiana Jones Sai che forse dire Indiana Jones Perché è veramente Troppo Iconico Però Per me A Bugs Life È pazzesco La parte quella Di quando Parlano tra di loro E arrivano alla conclusione Che se Se le formiche Si rendessero contro Di essere 1.1 Contro Contro le 100 cavalletti Allora qualcosa Potrebbe cambiare Cioè una metafora politica Meravigliosa In un film D'animazione Incredibile E vabbè Direi Iconico È vero ma non è così Iconico Sì sì è vero I predatori dell'arca perduta È più iconico Avengers Endgame Contro Hellboy Non so quale sia Questo qua Però Allora abbiamo a sinistra Un film della Marvel Che ha fatto Un casino di successo E è piaciuto A tutti quanti Tranne a me E a destra Hellboy Un film che ho visto Quando ero piccolo E che mi ha fatto impazzire E che rivedendo da grande Mi sono reso conto Di quanto effettivamente Non fosse Ah tra l'altro Questo è il 2 Hellboy 2 Povero Povero Hellboy Sempre bistrattato Ma guarda Siccome a me Endgame fa cagare E non lo dico Per far leggi di turno Ma perché ho tante motivazioni Per cui non mi piace quel film Andrei a votare Hellboy 2 Però non mi ricordo Hellboy 2 Hellboy il primo Mi piaceva da morire Endgame non è terribile Però è un film Boh È un film che ho visto Che sono uscito dal cinema E ho fatto Beh Ok Però forse ha avuto Più impatto culturale Endgame Rispetto a Hellboy Infatti nessuno Probabilmente in chat Ha visto Hellboy Però a me il boy piace ancora Ma a me è piaciuto Mi piace da morire La scena quella col bambino Nella Dentro la pelle Quando fa Che carino Tuo figlio Come si chiama E lo fa È un tumore Avengers Endgame No scusate Non so perché l'ho fatto Il nome del sito Mi dispiace Non lo dovevo fare Il signor No Non vale Abbiamo Il signore Dei anelli Il ritorno del re Contro il signore Dei anelli La compagnia Dell'anello Abbiamo il terzo Film della saga Contro il primo Film della saga No adesso qua c'è da litigare Adesso qua c'è da litigare Come fai Allora Hai il primo film Che ti intromette Nella storia In un modo Pazzesco Il primo film è iconico So a memoria Tutte le citazioni Contro il 3 Il ritorno del re Che è epico La battaglia finale La conclusione Sai che forse direi il primo Perché è quello che Ci sono più affezionato Però il 3 è veramente La perfezione Cioè come si conclude Una saga Fatta bene Non vale Mettermi i due film Della miglior saga Cinematografica Mai fatta Non potevi mettermi Che ne so Star Wars A sinistra Non lo so Che padre Ciao The Fire Grazie del quarto mese Tocca votare Il ritorno del re Io voto Il ritorno del re Blues Brothers Contro Star Wars 7 Poteva esserci Tutti i film Di Star Wars Ma Blues Brothers Vincio Mi dispiace Blues Brothers Ragazzi è un film Che veramente Fuori di testa No No Hercules contro Monster & Co No Tra l'altro Giusto l'altra sera Parlavamo come In Monster & Co Quando tipo Trovavano i calzini Nella schiena delle persone E li assaltavano E li mettevano Nella camera Di Di prigioniera Era tipo Il Avevano previsto Il covid E quelle puttanate Così Però forse Dico Monster & Co Però Hercules Cioè Hercules Per me Il film della Disney Che ha il cattivo Migliore Proprio È incredibile Cioè Ade Come cattivo È Monster & Co Però Dico Monster & Co Per me è molto Piconico Molto molto Piconico Il miglio verde Contro Matrix Allora Abbiamo a sinistra Un film Che io Piango Ogni qualvolta Che lo vedo Una mappazza Di tre ore Che parla Della pena di morte Provando a far capire Le persone Come il braccio Della morte Forse Veramente Una cosa Molto problematica E Frank Darabond L'ha diretto Veramente Mua Mentre a destra Abbiamo Matrix Un film che ha rivoluzionato Il sci-fi Con Kenny Reeves Molti di voi Che stanno spammando Matrix Saranno molto Contro la mia scelta Sono d'accordo Con voi Ma probabilmente Perché non avete visto Il miglio verde Perché Per me Per quanto Matrix Sia davvero Un capolavoro Per me Il miglio verde Lo supero Il miglio verde È pazzesco Però ci sta Capisco la vostra scelta Sul perché Matrix Però Vi consiglio di recuperarvi Di recuperarvi Il miglio verde Perché è un bel film Pirati dei Caraibi 1 Contro 21st Jump Street Non ho visto Quella a sinistra E Rullo di tamburi Non ho mai visto Pirati dei Caraibi È una di quelle saghe Che mi manca Ho visto solo il primo Quello della maledizione Della luna Se è il primo E l'ho visto tipo Ho visto l'inizio E qualche scena a caso Quindi Lo so Mi devo recuperare Il miglio verde Fa sempre male al cuore I pianti Ogni volta che lo vedi Io devo recuperarmi Pirati dei Caraibi Credo che Sceglierò questo Però automaticamente Captain America Sivin War Contro Simbal Della leggenda Dei Sette Mari Allora Mi verrebbe Da scegliere Simbal Della leggenda Dei Sette Mari Solo perché È un bel film D'animazione Però non è Uno dei migliori Film d'animazione Che ho visto Ho visto Robba veramente meglio E Civil War Non mi piace Cioè Civil War È letteralmente Ok Facciamoli combattere Senza alcuna Ragione logica No in realtà Ce le ha le ragioni logiche Che non mi andavano giù Quando ho visto il film Però devo scegliere Civil War Per quanto Non mi piacciono I film della Marvel Let's go Il Cavaliere Oscuro Contro Harry Potter E il prigioniero Di Azkaban A sinistra abbiamo Forse il miglior film Di supereroi Mai fatto È a destra Harry Potter E il prigioniero Di Azkaban Il primo film Che poi Stradark Mi pare che Il prigioniero Di Azkaban È quello diretto Da Alfonso Cuarone Che è tipo Stradark Tutto proprio Pericolosissimo Tutto dark Rispetto ai primi Che erano per bambini Comunque Il Cavaliere Oscuro Cioè non c'è Veramente paragone Chi cassa Uno contro Wolverine Le origini Abbiamo un film Di supereroi Che prende per il culo I supereroi E a destra Un film di supereroi Bellissimo Chi cassa Comunque Purtroppo Wolverine Non mi è mai piaciuto Come personaggio E i film di Wolverine Non mi sono mai piaciuti Quindi devo rispondere Chi cassa Solo perché È fottutamente divertente Aladdin Contro Yo Robot Non sentivo parlare Di Yo Robot Da dieci anni Probabilmente Tu Che vuoi Ciao Non ti stavo ascoltando Aladdin contro Yo Robot Devo rispondere a Aladdin Perché sono molto affezionato Però Yo Robot È pazzesco Cazzo non ho mai visto Yo Robot Fra Yo Robot Tu Robot No Tu Robot Comunque Sai che forse Di Yo Robot Preferivo il libro Molto di più Vabbè Direi Aladin Direi Aladin Bryce Danice Contro Mission Impossible Dead Red Non ho mai visto Nessun Mission Impossible Però almeno so cos'è Questo a sinistra Non ho idea di cosa sia Alien Contro Che audio sono Alice? Quello da nove secondi Posso ascoltarlo Aspetta Che cos'è? Non sono una I Sono vero Proprio io Il tuo fidanzato Andrea Parisi Madonna Ma che paura sta cosa Dovete smetterla Di imitare la mia voce Vito Bastidio Allora abbiamo A sinistra Un capolavoro Dell'horror sci-fi Se non il migliore Per me No in realtà Aliens 2 è perfetto Cioè Alien 2 Aliens È perfetto Forse tra Alien e Aliens Avrei detto Aliens Però tra Alien e 300 Per quanto 300 sia un bel film Alien Cioè non c'è nulla da dire Jurassic World Contro Un film che non conosco Per quanto Jurassic World Mi faccia cagare Jurassic World Perché l'altro Non so che cosa sia Un film francese A cazzo di cane Oh mio Dio Eragon Contro Ghostbuster Che si chiama S.O.S. Fantomes Intanto Giusto l'altra sera Parlavamo di quanto La presenza dei draghi Nei film Come cattivi Qual è il vostro Drago preferito Nel cinema Perché Il libro Ad esempio di Eragon È bellissimo Il film Più o meno Però tipo Per me Il miglior drago Mai fatto nella storia del cinema Come cattivo È Smaug Dello Hobbit Perché È un person Cioè Non è un mostro Che sta nel film Che fa il cattivo Come in tutti gli altri film Di draghi Smaug È un cattivo Perché Pensa Parla Ha delle emozioni Cioè È letteralmente Un personaggio Del film Per questo per me Rimarrà sempre Smaug Il migliore Che poi l'hanno tra l'altro È reso veramente Veramente Molto bene Nel film Però Eragon Per quanto il film Fosse mezzo cringe Vabbè Ghostbuster Non c'è nulla Da fare Il miglio verde Contro mission Ah ok Siamo allo showdown Va bene Dai Il signore dei Nelly 3 Contro Il pirata di Caraibi Endgame Contro Ghostbuster Ghostbuster Ah come cattivo Sì forse Smaug Sì sì come cattivo Monster & Co Blues Brothers Niente da fare Ormai ti tiro dritto Oh shit Film iconico Parte della cultura pop O il miglior film Di supereroe mai fatto Porca troia Porca troia Porca troia Sai che è Il Cavaliero Oscuro Raga Perché Indiana Jones Però Indiana Jones Cazzo lo so a memoria Tanto prima o poi Devo fare un video Chiamato Che cosa è successo Ai poster dei film Perché questi poster Erano pazzeschi Poi ne ho iniziato A far cagare Vabbè Il Cavaliero Oscuro Mi dispiace Ciao Pangoccioli Grazie del quarto mese Bello mio Ciao The Fire Grazie del quarto mese A Kangoo per i 20 bit Aladdin contro Kikass Aladdin è divertente Cioè Kikass è divertente Però Aladdin Oh cazzo Abbiamo Fight Club Che è un film Incredibile Uno dei miei preferiti Che però Nell'ultimo periodo È stato strumentalizzato Come misoginia Cazzo di cane Potere Questa sorta Di anarchia Contro il consumismo Avete rotto i coglioni È un film bello Però non l'avete capito Probabilmente Però c'è pure Alien Capito Alien è culto Alien è cultura pop Alien è incredibile Devo votare Fight Club Perché lo considero Molto più layerato Voto Fight Club Mi dispiace Per il miglio verde Però è il signore Di anelli Il ritorno del re Non può Non può essere battuto Blues Brothers Contro il cavaliere oscuro Ciao Blues Brothers Il cavaliere oscuro E mi sa che adesso C'è lo showdown No Monster & Co Contro Ghostbuster Monster & Co Solo perché sono Affezionato A Monster & Co Monster & Co Monster & Co Aladdin contro Fight Club Vince Fight Club Il signore di anelli Regà Non ci può Non può Non si può fare nulla Ecco E ora Ora sono cazzi Fight Club O Batman Fight Club Mi dispiace Mosocazzi E vabbè Round finale Per quanto Potrei dire Mosocazzi Io la risposta la so Purtroppo Come posso Non votare Il signore degli anelli Come posso Non votare Il ritorno del regà Uno dei migliori film Mai prodotti Guarda qua Cazzo Un fottuto Nazgul enorme Nella spalla Per forza Devo votare questo Comprendetemi Va bene Ci sta Va bene Cosa Sì però Non si sente Se è così distante Alice ha fatto partire Qualcosa in cinese Devo recuperarmi Fight Club Devi Cioè i film Con più win rate Sono Star Wars Il ritorno del re 3 Cioè il ritorno del re Signore degli anelli 3 Interstellar Signore degli anelli 1 Batman Fight Club Harry Potter Il primo Spider-Man Ritorno al futuro Harry Potter 3 Pirati dei Caraibi Il miglio verde Ok Vediamo uno di quelli Meno votati Ci sono un cazzo Un sacco di film Come Small Soldiers 15% No 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 Io devo parlare con qualcuno Che lanterna verde Così basso Small Soldiers Così basso È un insulto E 2012 Mi ero dimenticato Di questo film Madonna A Bugs Life Così basso Porca troia School of Rock Così basso No no Qua dobbiamo parlare Shark Tale Così basso Blues Brothers Così basso Ma chi cazzo Partecipa A sti sondaggi Lo squalo Così basso Gli aristocatti No niente Io devo parlare Con qualcuno Devo fare Un discorsetto Con qualcuno La gente Ha molti problemi School of Rock È incredibile Non ci si può dire niente Va bene Cosa proseguiamo Fast food O migliori canzoni Di tutti i tempi Perché fast food Sono gli oggetti Dei fast food E qua c'è da litigare Veramente Cioè proprio I veri e propri Oggetti Dei fast food E sono Un botto Mi sa Sono tornato indietro Ho sbagliato Canzoni Dai facciamo fast food E le canzoni Ce le otteniamo Per dopo Va bene Facciamo sempre Round 32 Sweet 16 Ah no Ok Sono Ah sono 27 E vabbè Allora Scegliamo Quello che consiglia Lui Ciao Roberta Grazie dei 10 bit Allora Abbiamo a sinistra Una cosa Che io non ho mai visto E a destra Le Little Caesar Wings Cazzo Se qualcuno È vegano Per favore Esca dalla live Grazie O vegetariano Mi dispiace Allora Io purtroppo Non ho mai assaggiato 106EAEEF0C9ED405980ADFB8F0E22ND7F Però le alette di pollo le preferisco mi sa Forse preferisco le alette di pollo sai Forse preferisco le alette di pollo Allora quello a sinistra c'è un omelette dentro Ma che è? Ma fa schifo Ma che cazzo Ma è proprio brutto da guardare Ma poi c'è il panino piccolo Pure del Mcdonald Ma non l'ho mai visto sto coso Sì ma un McTost Orribile Vabbè E alette di pollo Niente da fare Alette tutta la vita Mi dispiace What? È un pollo Con il crunchy chicken Contro Ah Queste sono le patatine Quelle Con la formina Mega salate Raga Guardate sto pezzo di pollo E madonna Mo' ho fame Alice Pizza Pizza stasera Pizza Come? Salamino Pizza con salamino? Per stasera tradirò la pizza con Vi ho stelle patatine E mi prenderò una pizza con Salamino Ogni tanto è giusto variare Ogni tanto è giusto variare Va bene ho famissima E comunque questo è così crunchy Che scelgo questo Scelgo crunchy È appena apparsa La pizza con salamino Cazzo Pizza col salamino Credo di Domino's Pizza No non è quel cartone Però pizza con salamino Contro Il Bacon King Di Burger King Porca troia Allora per me Il Bacon King È uno dei migliori panini In generale Dei fast food Però la pizza col salamino Raga Se avessi davanti Il Bacon King È una pizza col salamino Pizza col salamino Raga Eh vabbè Salame piccante Va bene Pizza col salamino Raga Pizza col salamino Mi dispiace Poldo sia italiano Cazzo Infatti pizza col salamino Allora abbiamo Un qualcosa Al plutonio E I mochi Sono mochi Sì sembra Del Dunkin Donuts Allora Siccome Mccafè Credo che questa Sia spremuta al mango Tipo Su qua di mango Su qua L'arancia Non lo so Contro i mochi Del Dunkin Donuts Boh Cos'è quello a sinistra Qualcuno lo sa Allora Io adoro i mochi Perché quando andavo da Quello che fa le poke Come si chiama Poke house Prendevo sempre Il Proprio quei mochi Piccolini Sono Erano deliziosi Però dopo un poco Mi davano fastidio Cioè il succo all'uranio Non lo so Il succo radioattivo È un succo Eh Donut Whole treats Palline fatte con l'impasto Del donut Con dentro il ripieno No allora no Allora è il succo Allora è il succo Il succo Per me è il succo Oh cazzo Le nuggets del Burger King Che non voglio bestemmiare Ma Le nuggets del McDonald's Sono buonissime Le nuggets del Burger King Plant based Sono deliziose Zitto Solo perché odio il Burger King Non mi mandare a fanculo Fa schifo Non fa schifo È buono Cioè un panino buono Qual è il panino buono del Burger King Non lo so come si chiama Va bene Va bene Il Burger Allora le plant based del Burger King Sono deliziose Tutti i cartoni Sono buonissime Sia quelle del Burger King Che quelle del McDonald's Sono buonissime Però vabbè Allora a sinistra abbiamo Questo gelato buonissimo Del McDonald's Vabbè dai Le nuggets Le nuggets Le nuggets Nuggets per forza Obbligatorio Patatine del Burger King Contro del pollo fritto Allora io non sono un fan Delle patatine del Burger King E mi fanno cagare Le patatine del McDonald's Tra quelle Forse preferisco Quelle del Burger King A quelle del McDonald's Sono molto più consistenti Però raga Un cosciottone De pollo fritto Così mamma Sto diventando Franchino il criminale Mi è uscito il romano Quando parlo di cibo Pollo fritto Mi mangio lo schermo Ho toppa fame KFC Mac and Cheese Bowl Contro il normale Secchio del KFC Ragazzi Il Mac and Cheese È una delle cose Più strane Che abbiano mai inventato Secondo me Che straminchia Il Mac and Cheese Fidatevi Il Mac and Cheese È strano Per quanto possa Sembrare una cosa È proprio la classica Americanata del cazzo Poldo Preferisce il KFC C'è il bucket normale Ciambelle di Dunkin Donuts Contro Nuggets Del McDonald's Vabbè Niente da togliere Alle ciambelle Perché a me piacciono Le ciambelle Però tipo Dopo due ciambelle Mi fa incazzare Cioè Non mi piacciono più Non mi fa incazzare Non è che mi garbano troppo Quindi Sai che boh State partecipando Intanto al sondaggio Ve lo rimando Un altro po' Papapapapapapapa Papapapapa Ve lo rimando in chat Partecipatevi Ok dicevo Nuggets Raga Nuggets Nuggets Allora Ali di pollo Contro pollo fritto Ali di pollo Molto buone Però Raga Il pollo fritto Il pollo fritto, raga È il pollo fritto Cioè, è il pollo fritto, cazzo È buonissimo questa impanatura di Ho famissimo Nuggets del Burger King Contro un intero secchio di pollo del KFC Ovvero, dei piccoli pulcini morti O dei grandi polli morti Madonna, che brutta cosa Tanto non è tremendo che ci sia Un piccolo pulcino sopra la scritta Nuggets, cioè ti stai mangiando Lui, ma perché hanno avuto questa idea Di merda, che poi pure nella scatola Ci sono dei pulcini Abbiamo completato di nuovo L'obiettivo sub Grazie a tutti Va bene, comunque Nuggets Nuggets Mi sa che vince il pollo fritto La maggior parte delle due scelte Io adoro il pollo fritto, mi fa impazzire E qua abbiamo Panino col pollo fritto contro pizza al salamino Raga, la pizza al salamino È buonissima Non voto questo solo perché ha sto cetriolino sotto Che io adoro il cetriolino dei panini del Mac Però non lo so, fa strano questo Però solo il tocco di pollo Il tozzo di pollo fritto è incredibile Però regala la pizza al salamino Cioè, cazzo vuoi dire? C'è la pizza al salamino Succo all'uranio contro nuggets Fanculo Succo all'uranio Nuggets Ci sarà lo showdown Nuggets contro nuggets? Finirà male Pizza al salamino o pollo fritto? Ecco, qua già siamo al grande Semifinale Semifinale Non so perché è felice di vederti Madonna, che brutta idea Di nutrirti Ah, ok Che brutta idea Pollo fritto o pizza Regà Sono italiano o sono del Kentucky? Rispondetemi Sono italiano o sono del Kentucky? Però cazzo il pollo fritto Mamma mia No, pizza col salamino Pizza col salamino Pizza col salamino Niente da fare Mi dispiace per il pollo fritto Questa cosa è molto sbagliata Nuggets del McDonald's contro nuggets del Burger King Questa qua si merita un sondaggio ragazzi Questa si merita un fottuto sondaggio Si merita un sondaggio Vai Ok Vai Sondaggio Gestisci sondaggio Nuovo sondaggio Quale? Quale? L'hanno già fatto? Chi è stato? Dannati I'm speed Fanculo Erva Is here Ok Vediamo quale preferiamo Burger King contro McDonald's Eh Guarda che Piano piano Si sta Però 63 contro 100 Non è male Posso dire 63 contro 100 Non è per nulla male Però vince il Mac Sai che anche io forse dico Mac Sono le più buone Però anche quelle del Burger King Sono fottutamente deliziose Come si fa a resistere al pulcino del Burger King? No infatti è disgustoso metterlo là sopra Va bene dai Di nuovo obiettivo sub raggiunto Basta Ora lo tolgo Spam là sopra Ci sono quattro cose C'è l'hype train Le nuggets Va bene E E Allora Ciao Mattiz Grazie del nono mese Bello Sei arrivato nel momento critico Dai non scherzare Lo so Lo so Nuggets Che potrei mangiare veramente All'infinito I nuggets Li potrei veramente mangiare All'infinito Potrei veramente mangiarli All'infinito Potrei andare avanti all'infinito Ma la pizza ragazzi Cioè è la pizza Ok le nuggets Sono un tipo di pollo Molto buono Che la gente mangia Ma la pizza Sì Le mangerei fino a diventare ghiattone Ragazzi la pizza Col salamino Ragazzi è la pizza Cioè è la pizza L'impatto culturale della pizza È incredibile È la pizza Raga Cioè è la pizza Non puoi dire nulla Non c'è Mi dispiace per i nuggets Ma è la pizza Avevo una E una Un piede sulla scrivania Ha vinto la pizza Vediamo cosa preferisce la gente Cioè la gente Ok la pizza è molto alta Però questo Questo panino è così alto E poi c'è il Burger King Domino's Pizza Madonna Vediamo uno dei più Smerdati KFC Biscuit Ma che è? Questi non mi sono spuntati Il McRib No questi non mi sono proprio spuntati Eh no molti non mi sono spuntati Tipo il Dunkin' Donuts Ma che è? Cos'è un Dunkin' Donuts? Bravissimo Pizza Eh vedo che molti hanno scelto pizza Bravo Erba che crea in game Cos'è un Sì ok Ho scelto Dunkin' Ho scritto Dunkin' Donut Dunkin' Donut Cosa cazzo è un Dunkin' Donut? Non me lo trovo da nessuna parte Sembra un donut ripieno Va bene È a posto Abbiamo Abbiamo trovato la soluzione Abbiamo trovato la soluzione Signori si passa all'ultimo torneino di stasera Le migliori canzoni di tutti i tempi Quasi litiga Ho rovesciato l'acqua per terra Puoi andare a prendere una Non mi succederà da tanto Non ti arrabbiare Non fare così Ho rovesciato l'acqua ragazzi Ho rovesciato l'acqua Mi sono bagnato i pantaloni Ho rovesciato l'acqua Sono un danno Sono un danno Ho fatto un danno Ho fatto un danno Mi dispiace Scusa Mi dispiace Stavo più attento Devo cambiare i pantaloncini Ah sì Eh sì Perché me li sono bagnati No fanculo Faccio laver coi pantaloncini bagnati Pulisci 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 Sto usando il piede per pulire Avete problemi? Poldo stai tutto cacato Eh sono un piscione Sono un piscione Poldo si è fatta la pipì addosso E ora i pantaloni bagnati Sì voi picciate dalla coscia Giusto? E... Mi cambio i pantaloncini Sono nudo Sono nudo Sono nudo Sono nudo Sono nudo Sono nudo Pizze Pizze Perfetto Ancora un po' bagnato Pazienza Ok rieccomi Eh dopo che mi sono cambiato I pantaloni pisciati È il momento Allora qua si litiga Perché Eh raga Cioè sono canzoni Andranno sul gusto molto personale Quindi Ma ho cliccato play Poi vediamo che canzoni ci saranno Come round di 64 No sto cazzo Facciamo i 32 Mai e mai Allora abbiamo a sinistra Viva la vita Dei colplay Cioè Viva la vita dei colplay Cioè è viva la vita dei colplay E a destra Someone you loved Di Lewis Capaldi La conosco Perché l'ho sentita da qualche parte Però Viva la vita Dei colplay Mi dispiace Per quanto i colplay Mi facciano cagare al cazzo Vera Lynn Will meet again Cioè Cioè raga Contro Fuck you Di Silo Green No ma questa qua Sinistra tutta la vita Oh Black Bear Doremi Fat Gucci Mane Aspetta Qual'è questa? Non la conosco Però raga Call me maybe Cioè È call me maybe È call me maybe Che cosa puoi fare? Tanto voi sentite Un leggero ritardo Ma io in cuffia Lo sento bene Vabbè È call me maybe Di Carly Ray Jepsen Non mi ricordo A me Kane West Fa cagare È ovvio che devo Scegliere Dream On Degli Aerosmith Ma anche se ci fosse Stato qualche Cioè è Dream On Degli Aerosmith Raga È un pezzo Incredibile Dream On Dream On Dream On Dream On Dream On Allora The Weeknd Star Boy Posso dire una cosa Che offenderà molti The Weeknd È la classica canzone Da Da H&M Quando entri a H&M Senti questa lagna Di sonno Scusate Capisco che ad alcuni Piaccia Però Io non sono Non lo so Nessuna canzone Ho troppo apprezzato Sua Però c'è Bruno Mars Talking To The Moon Anche questa conosco Ma questa forse La odio Va bene Sceglierò The Weeknd Solo per questo Colplay Fix You Un pezzo di merda Veramente Fa cacare Questo pezzo Un pezzo di merda Una testa di cazzo Questa canzone Mamma mia Contro American Pie Ma no Che palle Devo scegliere Questa qua Devo scegliere Questa Oh Luis Fonsi Despacito Contro Ice Cube It Was A Good Day Cioè Regà Sto pezzo Ha un beat Pazzesco La sua voce No Regà It Was A Good Day Però Cioè È incredibile One Dance Di Drake Anche questa Mai sentita Questa Regà Posso dire Che quell'album Di Billie Eilish Mi era piaciuto Da morire Quello dove c'è lei Tipo nel letto Così La prima volta Che l'avevo sentito Mi era garbato Particolarmente Perché non avevo Cioè Non c'era nulla Come quello Di così pop Che andasse In quel modo Quindi Poi sta canzone Vabbè Iconica Regà Bad guy Vai Waterfontein Questa non la conosco Però Roar Christmas Kid Questa non la conosco Però Sembra fortissima Quindi sceglierò Questa Tè alla pesca Oh mio dio Sto pezzo Allora Post Malone È Molto Fico Secondo me Ha molti pezzi Che sono Veramente Veramente Belli E Regà Questa qua In particolare Mentre Boy with Uke Che poi è l'ukulele Tipo L'ho provato ad ascoltare In molti pezzi Non mi piacciono Trovo molto Molto caricatura pop Sembra uno di quei Proprio personaggi Creati appositamente Per sfondare Nell'industria del pop Quindi Non l'ho mai Così troppo apprezzato Quindi Soundflower Cioè Post Malone Sopra Kendrick Lamar All right Contro Toxic Di Cioè Di Boy with Uke Ah questa la conosco Questa la conosco Però regà Kendrick Lamar Vi rendete conto Cioè Tanto Un pezzo Anche della Madonna Regà E regà Kendrick Lamar Tutta la vita Non ci si può dire nulla Non c'è veramente Paragone Taylor Swift Tutti amano Taylor Swift Ma A me fa Fanta O Coca Non c'è il tè E Fanta Taylor Swift Boh Non ho mai così ascoltato DJ Khaled Take it to the Dico DJ Khaled Per il meme Però anche lui È Ha fatto un downfall Pazzesco Di nuovo Boy with Uke Contro Eppi di Farer William Ciao Veramente ciao Questo pezzo è veramente bello Tra l'altro Questa cosa si chiama The best songs Of all time E contiene Un buon 90% Al momento Di canzoni pop Di oggi Ora io non voglio Fare il solito Edgy Che dice che le canzoni Dei anni 90 Sono migliori Perché ci sono pure Canzoni del 2005 2010 2015 2023 Che sono pazzesche Però figa Sta mettendo solo canzoni Degli ultimi due anni A momenti Cristo Dio Vabbè Fare il William Seppi Ci sta alla fine Come non detto Perfetto Eeeh Io non so Chi sia quello A destra Juice World Se si pronuncia così Però Regà Cioè Frank Sinatra Con My Way Mi dispiace per Juice Ward Però Frank Sinatra Con My Way Lizzo Truth Earths Non conosco Lizzo Invece conosco Lizzo Mi è bastato Sentire un po' Senza conoscere Sto pezzo Che voterò Roardi Chetty Perry E vabbè Per forza Roardi Chetty Perry Easy Cos'è sta cosa? Ma Ok The Gregory Brothers Chicken Attack Perché Sta qui Perché Sta in sta cosa Contro Love Yourself Di Justin Bieber E vabbè Cioè Scelgo Justin Bieber Solo perché Quella sinistra È un meme Ah E ora Andiamo allo spareggio Viva la vita O American Pie Eh no Regà Viva la vita Viva la vita Viva Las Vegas Billie Eilish Contro Vera Lynn Uff Bad guy Preferisco bad guy Non lo so Non lo so Per me Ha più Impatto Vabbè Frank Sinatra Contro DJ Khaled Life is Roblox Mi dispiace Però vai Post Malone Contro Dream On Degli Aerosmith Allora Non voglio offendere i fan Di Post Malone Però Dream On È un pezzo Che Negli anni 90 Era una ballad Che conoscevano Tutti Se voi andate Da vostri genitori La fate sentire La conoscete voi E la conoscono I vostri genitori Sunflower è bellissima Però secondo me Avrà il suo corso Nei prossimi anni Dream On La storia invece L'ha già fatta Quindi Dream On Dream On Ice Cube It Was A Good Day Questa non la conoscevo Per quanto è carina It Was A Good Day Raga Niente da fare Niente 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 da fare Niente 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 da fare Niente 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 da fare Ok Riaccomi La prendo da me Di pizza Ma magari Allora È chiusa Pizza Salamino In my way Call me baby Contro happy No ovviamente Call me maybe Call me maybe O happy Di fare il Williams Call me maybe Anche se happy Però è un bel pezzo Confermo chat Kendrick Lamar Contro Justin Bieber Tra l'altro All right Di Kendrick Lamar Manca un pezzo a caso Kendrick Lamar Per forza The Weekend Contro Roar Roar Niente da fare Roar meme potente Meme 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 Veramente potente Ciao PSK Grazie al sesto mese Call me Ray Jepsen Ciao Grazie Call me Ray Jepsen Per il sesto mese Happy Contro Roar Sì happy Perdonatemi My way Contro Roar My way Di Frank Sinatra Niente da fare Niente da fare Billy Eilish Contro Viva la Vida Bad Guy O Viva la Vida I used to rule the world Bad Guy Previsco Bad Guy Porca puttana Sai che forse Allora Come dicevo prima Dream On è un pezzo Della Madonna Dream On è un pezzo Che ha fatto la storia Che è incredibile Eccetera eccetera Ma per me Non è Il miglior pezzo Degli Aerosmith Nonostante questo pezzo Abbia fatto la storia Io preferisco Altri pezzi Nonostante voi State spammando Dream On Io preferisco All Right Di Krendi Klamar Tu che ne pensi? Io Come sto? Non le conosci? Va bene dai Dream On Mi avete convinto Ho sentito molta gente Dire Che Che mi Mi uccide Call me maybe Contrituosa good day Dai raga Cioè Va bene il meme Va bene il meme Di Call me maybe Però Basta questo coso Basta fare le sub Come sto Scusate Ice Cube Niente da fare Ice Cube Ecco E ora Abbiamo due pezzi Che hanno fatto la storia A sto giro Non vincete voi A sto giro Vince Ice Cube No no raga Cioè Non c'è niente da fare Vince Ice Cube It was a good day Cosa ho detto? It was a good day Frank Sinatra Contro Billy Vince Frank Sinatra Mi dispiace Sorry Billie Eilish Eccola Siamo arrivati Alla conclusione Frank Sinatra Uno dei migliori Cantanti Che la terra Abbia mai avuto O Ice Cube Uno dei migliori Rapper Che la terra Abbia mai avuto Sai che Mi verrebbe da dire Ehm Cioè Ice Cube È mitico Ice Cube È pazzesco Però My way Di Frank Sinatra Mi odierete My way Per me vince My way Di Frank Sinatra Figo Strano Perché molte Canzoni Non sono spuntate Ecco Cioè Vedi Michael Jackson Bill Jean Lose Yourself Sì Però Che cazzo Di canzoni Ci sono Ok Hotel California C'è alcune canzoni Che veramente Non ho mai sentito In vita mia Cioè C'è Ed Sheeran Ecco Son Barri D'era Giusto No Mamma mia Vediamo Qual è Una delle canzoni Meno scelte Melanie Martinez What Davvero Turn the lights off Dei Tolly Hall E così Secondo me è perché Non l'hanno mai ascoltata Secondo me è perché Non hanno mai ascoltato Turn the lights off Che è finita così bassa Ci sta Ci sta Ci sta Va bene signori A questo punto Mi sa che noi siamo arrivati All'ultimo quiz Della serata Allora Intanto Vogliamo andare a vedere Quelli che avete scelto voi Quindi fatemi fare un attimino L'accesso Boom Sbagliato Fatemi fare così Fatemi fare al volo l'accesso Per Ah ok Non c'era bisogno Nella password Vediamo il quiz Di stasera Allora Avete Partecipato E quindi è giusto Qua vedo i commenti Viva il pene Shrek Zio Pera Va bene Ok Vediamo Cosa avete scelto Allora Il video Più amato Del canale È la storia La bizzarra storia Di come Surri È invaso l'Italia Allora Sai che Anch'io Ne parlavo con sedia Forse considero Questo il miglior video Che abbia mai fatto Perché ancora Non è uscito Quello che sto preparando No Però questa qua È una storia epica Forse Questo video È poldo Cioè Se dobbiamo Definire un Questo video È poldo È niente da fare Infatti Figo Quello di Blaha Secondo Blaha Davvero Mettete quello di Blaha Secondo Raga Adesso vi spoilerò una cosa Il video di Blaha Doveva essere Un side video Forse perché è uscito Da poco Che magari L'avete messo lì Però Il video di Blaha Era un video Tappabuco Che doveva uscire Ad agosto Come quello del peta Perché Non avevo molte idee Molte robe fighe Quindi ho detto Vabbè dai Parliamo di questo fenomeno Ma davvero così alto Tra i miei video Forse un po' overrated Sai A me non è uscito Ma ci sta Ci sta Forse un po' overrated Però Questo Tra un mesetto Sarà in fondo Lo immaginavo La quasi intera storia Dell'evoluzione dei meme Lo considero Uno dei migliori video Che abbia mai fatto Quindi ci sta che sia qua Genshin Impact Vabbè Solo perché è iconico Dai Solo perché è iconico Però è effettivamente Un video di merda Sono io che prendo Per il culo delle ragazzine Dai Parliamoci chiaro Ho ricrollato più persone Possibili in 24 ore E adesso scoprirete Che io considero Questo video Uno dei miei peggiori video Non guardiamo gli altri Li guardiamo dopo Lo voglio fare insieme a voi Così è molto più facile Che Ne discutiamo Allora Meme che terrorizzano La sedia dei gambe Ho ricrollato più Ok allora parliamo Direttamente di questo Ho ricrollato più persone Possibili in 24 ore È Contra ogni aspettativa Uno dei video Peggiori del mio canale Secondo me Di quelli nuovi ovviamente Ho fatto tanti video di merda io Però questo qua È uno di quelli Che proprio Ho sbagliato A farlo Voi direte No vabbè Un bel video Ci sta Non sono felice Di come l'ho scritto Non sono felice Di come l'ho diviso E questo video Manca di una cosa Il perché Cioè ogni mio video Ha una motivazione Per cui l'ho fatto Questo era Perché lo sto facendo È proprio random Ed è stato random È bellino Mi sono impegnato Però Se lo dovessi fare adesso L'avrei fatto totalmente diverso L'avrei scritto in un modo Totalmente diverso L'avrei strutturato In un modo totalmente diverso Per renderlo veramente epico Potevo Veramente ricrollare Tantissime persone Invece è stato molto Beh Eh Ci ho provato Infatti Vabbè Pazienza Però dai È bello proprio perché Random Vabbè dai Ci sta È figo che lo appreziate Però io voto il meme reaction Con serie Piripiripipi Onti si sta Sapete che questo qua È il video più visualizzato Del mio canale È il video che Che ha fatto più visual Ha un milione di visual Questo video E voi direte What the fuck Guardate qua Ha un milione di visual Ha superato il video di Lion Per farvi capire Ha un milione di visual Regà Eh Boh Perché TikTok Sì c'è Greel mossi in copertina Che si tocca le tette Boh Sono io Che prendo Che reacto a TikTok E lo prendo per il culo Onestamente Una delle cose peggiori Che ho odiato Del mio personaggio E che spero non ritorni più Eh Contro Servite a TG Che non hanno senso Preferisco questo Sai Preferisco questo Perché è più iconico Ciao Luciano Grazie del Prime Di nuovo obiettivo sub E niente Andrà così Per tutta la giornata Meme che Andrea In 1988 Ha pregato a spiegarmi Dove Andrea Non ha riso a nessun meme Contro Ho sfidato Tirless Raptor Su Photoshop Preferisco questo Anche questo Avrei un video Che avrei fatto In modo diverso Sono stato blastato Dai VGF Contro quella volta In cui la Rai Ha scoperto il black metal Quello di Lion Cioè è iconico Raga È veramente iconico Reagisco ai meme su di me O fobie che non sapevi di avere Allora Reagisco ai meme su di me È un video che Secondo me Alla fine è uscito bene In quello che doveva essere L'ho scritto anche In modo figo Secondo me Fobia che non sapevi di avere È stato il primo video Che ho editato In modo Veramente intenso E che mi ha fatto Un botto di visual Sta a 615 Che poi ha dato Il vita Vita Al poldo di ora Cioè se vedete la intro Sono cambiato un sacco Sei nato Però dal 1991 Quando il worldwide web È stato inventato Abbiamo potuto osservare Un altro dettaglio Non serve avere un ragno davanti Per manifestare La propria arachnofobia Basta anche averlo Nello schermo Del computer Sì perché su youtube È facilissimo Trovare un phone Era molto più Molto più grezzo Però ci sta Il mio editing È migliorato molto E È più come Tra i video che ho editato Di più andre Sono i più visti Vero figo 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 Quindi voto questo Perché ci sono Forse affezionato Leo non capisce L'umorismo della Gen Z O cercare black metal Su tiktok È stata una pessima idea Voto il copy Meme reaction Solo perché I contenuti sul metal Hanno iniziato A cringiarmi un botto Quindi con Meme reaction Paraparapà Mi dispiacerà Torix Nonostante questo video Ha fatto un botto di vis Rega cioè Prova definitiva Che tiktok è il cringe Fatto a social Ovvero una live Editata E caricata A cazzo di cane Che ha fatto 915.000 Visualizzazioni Contro Un video dove ho speso Un botto di soldi Ho aspettato tre mesi Per farlo Potevo scriverle Potevo scriverlo meglio Questo video Però alla fine Secondo me È riuscito Infatti ha fatto Le sue visual Sta copertina È cringissima Comunque è destra Niente da fare Ho speso 1000 euro su Fiverr Per fare una band O la quasi intera Allora Ho speso 1000 euro Su Fiverr Per fare una band Nonostante io sia Molto autocritico Contro me stesso È un video Che secondo me È uscito molto bene Per quanto abbia Come tema Il metal e Fiverr Quindi un po' banale Sono contento di come L'ho scritto E rivedendolo Ho detto Cazzo l'ho scritto Proprio bene È una storia Bella avvincente Perché c'è il problema Che poi devo risolvere Che poi alla fine Viene risolto E c'è il finale E per quanto La canzone finale Poi faccia cacare Però regala Quasi intera storia Dell'evoluzione dei meme È un video Incredibile È un video Incredibile È il video Che proprio Ci ho speso Più tempo Per farlo Più tempo Per Proprio per scrivere C'è un bordello Questo video Per cui scelgo questo Addis Abeba La città distrutta Dai meme italiani O esiste una lista Di youtuber pericolosi Questo video È stato reactato Da praticamente Mezza Twitch Italia E sono molto contento Di come è uscito Anche perché È molto epico Però regà Addis Abeba Cioè Addis Abeba È una storia bellissima Più del Moj Secondo me Forse Forse voto Addis Abeba Perché È una cosa Meme incredibile Poldo in due argomenti Youtuber Meme Vedi E Sai che forse Addis Abeba Io voto Addis Abeba Che Che stronzata Addis Abeba Youtube Kids Sta diventando di cattivo gusto Overe una reaction A Youtube Kids Ho 10 youtuber Di cui forse Ci siamo dimenticati 10 youtuber Di cui forse Ci siamo dimenticati Ciao Farelio Grazie al TR1 Questo qua È veramente iconico Non scrivete Youtube Kids Perché vi banna Il botte Quindi attenti Meme così innocenti Da scagionare Il paccianico Neme Madonna che titolo di merda O Genshin Impact Dai Genshin Impact Pagine Twitter Inutilmente utili Madonna che titolo stupido Ho sfidato Un'intelligenza artificiale Questo video È complesso È proprio complicato E mi sono impegnato Un botto Forse oggi L'avrei scritto E fatto in modo diverso Però lo preferisco Lo preferisco Beh ho un biscotto Tatuato per questo video Quindi direi questo Chiedervi di disegnarmi È stata una pessima Anche questo secondo me Ho scritto molto bene Per quanto fosse un video Per la mia community È arrivata la pizza? Ah grazie Lo strano mondo Del Facebook Marketplace Ho trollato Kappekazu Allora questo video Mi ha fatto capire Cosa volevo fare Su Youtube Mi ha fatto capire Il mio personaggio E questo video È poldo Cioè Ho trollato Kappekazu È poldo È un video da poldo Come il video di Surry Cioè una storia Architettata da me Il marionettatore È un video epocale Niente da fare È storia E ora andiamo ai finali Allora Vabbè Qua VGF Perché è iconico VGF Perché è veramente iconico Youtuber di cui ci siamo Dimenticati O lo strano mondo De Shrek Youtuber di cui ci siamo Dimenticati Tra l'altro Sto video ha 600.000 visualizzazioni Servizio al telegiornale Più iconico Genshin Impact Usch È la storia dei meme Raga Per me è il mio Miglior video Addis Abeba Più compatto Come video Uscha Ho un biscotto Tatuato Per il video A sinistra Avrò il Tanto che è bella La copertina Del video a sinistra Avrò il diritto Di metterlo Avrò il diritto Di mettere questo video Sono molto affezionato A questo video È niente da fare Genshin Impact Stavo per cliccarlo diretto Però questo video Lo considero davvero Un bel video Tra la intro Che è spettacolare La svolgimento E anche il successo Che ha avuto Questo alla fine Sono io che reagisco A dei commenti Che per quanto iconico Per me A livello di editing E di scrittura Rimano una spanna sotto A questo Mi dispiace Surry Contro il biscotto Ecco Mi dispiace Per il mio tatuaggio Ma questo video Mi è venuto proprio bene Ciccio Cioè Addis Abeba Contro storia dei meme Storia dei meme Genshin Impact Contro 10 youtuber Di cui ci siamo dimenticati 10 youtuber Ah Questa no Raga Voi cosa dite È quella a sinistra È quella a sinistra Non c'è veramente Dove dialogare Qua ti voglio Fra è quella a sinistra Ciao Sedia tra l'altro Dovresti farlo anche tu Questo Questa cosa Con la tua chat Una live su questo sito La teffida ti falla Molto figo Convolge molto la community È qua Rega A sinistra Niente da fare Per me Questo qua Anche secondo sedia È il mio miglior video Tanto che copertina Della madonna Che ho fatto per questo video Non me la ricordavo Ed è il video Anche preferito Dalla mia community Vediamo qual è il video Che meno avete preferito Oh Meme reaction con Bertra Rispondo a domande brutalmente oneste Con meme reaction Ok Ci sta che questo qua Non vi sia piaciuto troppo Davvero immagini possibili Da trovare su internet Non vi è piaciuto? Cioè Non vi è piaciuto? Ah grazie sedia Non vi è piaciuto? Vabbè È più in basso Rispetto agli altri Poi abbiamo Meme che What? Davvero Meme reaction con Nova È meglio di Vabbè dai Facciamo finta di no Faggine Facebook Ok Video iconico Ok Davvero è così in basso Youtuber di cui siamo dimenticati Cioè 33esimo Madonna Messaggi di un certo Spesso Davvero 33esimo Raga Vi odio Non riconoscete il duro lavoro Anche questo sta 25 Cioè quello di Facebook Della canzone sta sotto È arrivata la pizza? No Quando arriva? 5.20 Ah ok Pensavo alle 5.20 Ciao Rana Grazie del Prime E Ok KK Minchia è altissimo questo Sono molto felice Che questo video Sia così in alto Perché Mi piace Il fan club di Lion Figo che questo sia anche così in alto Potere Kawaii Sta così in alto Ma perché Perché ho sfidato Tyrl S.Raptor Su Photoshop Sta così in alto Pure Maradona Kart Ma non ha senso Ok Ora so cosa piace Alla mia community Questo qua È Non so Veramente Non capisco perché sia qui Non capisco veramente Perché sia qui Quanti visual ha su YouTube Questo video Questo video Su YouTube Va A 427.000 visual Oh Gesù Tra l'altro Il video di Blast Sta ancora in tendenza Ok È appena uscito dalla tendenza È stato in tendenza Per tre giorni Regà Cioè Tre giorni di tendenza È una roba Grave Poi dalla gente Piacciono le mod Occhiolino C'è Tyrl S.Vestito Da maid Dai Ma non è possibile È un po' caldissimo Non ce la faccio più Stop Biglie What the hell È la sua ultima live Su Twitch Tra il minuto E i due minuti Accetto la mappa Perfetto Regà Direi che È fatta È fatta Poldo Ciao Poldo Come stai Patato Io Sappi che Sto indossando Un vestito Da maid Però Non mi sta E quindi Sul retro È tutto aperto Che schifo Fra Ti voglio bene Tyr È l'ultima live Su Twitch Di Tyr Per si trasferisce Definitivamente Su Youtube Leggit Grazie a tutti Grazie a tutti